Gentile collega, ti sto presentando un caso di scoliosi del tratto cervico-toracico. La scoliosi è una patologia evolutiva che si può rendere manifesta in qualunque epoca, di solito nell'infanzia e nell'adolescenza, ma in questo caso si è resa manifesta in un feto plurimalformato nel terzo trimestre. Che cosa osserviamo? Osserviamo che il tratto terminale della colonna vertebrale, lo vedete bene qui, è perfetto, come è perfetto il tratto lombare, come è perfetto buona parte del tratto toracico, mentre voi osserverete invece un'alterazione della normale struttura rachidea nel tratto cervicale, nel tratto iniziale toracico. Vedrete un collo corto, lo vedete bene qui, un'anomala curvatura, poi vedrete che anche sul piano laterale ci stanno delle alterazioni, non vedete espina bifida, ma vedete soltanto questa perdita della normale morfologia del rachide, qui avete visto anche per un istante l'alterazione del binario usuale, qui vedete il collo che è corto, qui vedete che non ci sono difetti rachidei, qui andate a vedere sempre la difficoltà di evidenziare il tratto iniziale, il tratto cervicale del rachide, rivedrete tra pochi secondi di nuovo il difetto e quindi in questo caso ovviamente segnalerete la scoliosi associata alle altre malformazioni.